In questo video vi parlo di un software sviluppato da me è un progetto che avevo abbandonato, in realtà non proprio abbandonato, comunque però non lo aggiornavo dal 2017 ma adesso, proprio ieri, ho rilasciato un nuovo aggiornamento quindi ne voglio parlare ed è un sostituto del blocco note probabilmente se avete visto altri miei video mi avrete visto usarlo si chiama Ecapad, è completamente gratuito ed ha delle funzionalità in più rispetto al classico blocco note intanto la prima, proprio aggiunta nell'ultimo aggiornamento è la possibilità di impostare dei temi, quindi scegliere il colore dello sfondo e del testo in questo caso ho impostato il tema scuro, possiamo passare al tema chiaro blu scuro vedete chiaro, comunque abbiamo al momento 6 scelte, poi magari in futuro ne aggiungerò altre per quanto riguarda invece le maggiori funzionalità di Ecapad abbiamo la crittografia, quindi possiamo andare a cifrare il contenuto del nostro blocco note quindi solamente noi possiamo vedere il contenuto andandolo poi a decifrare in questo caso con la crittografia standard chiunque potrebbe farlo ma abbiamo anche un sistema di cifratura più avanzata nella quale possiamo inserire una password in questo caso vado semplicemente a mettere password e non sarà più possibile decifrarlo senza sapere la password infatti se andiamo a decifrarlo con la decifratura standard non funzionerà dovremmo necessariamente usare quella avanzata e inserire la password tra le altre funzioni c'è la possibilità di usare un sistema di appunti un po' più avanzato possiamo ad esempio salvare 5 appunti fissi che potremo poi andare a richiamare quindi con CTRL maiuscolo 1 salviamo un appunto qui maiuscolo 2 lo possiamo salvare qui maiuscolo 3 qui e poi li andremo a richiamare oltre a questi abbiamo anche la possibilità di salvare gli ultimi 10 appunti salvati normalmente quindi rimarranno invece che l'ultimo gli ultimi 10 abbiamo anche la gestione dei documenti preferiti quindi possiamo salvare i documenti che utilizziamo maggiormente e li troveremo qui possiamo aggiungere un documento preferito in questo caso è un file non salvato quindi non potrei aggiungerlo e possiamo poi andarli a gestire quindi scegliere quali spostare all'inizio, spostare in basso, rimuovere e controllare se sono ancora validi i collegamenti tra le altre funzionalità abbiamo la ricerca quindi possiamo cercare e sostituire un testo cercare tutte le occorrenze di una determinata parola sostituirne una o sostituirle tutte possiamo andare a un numero di riga, parola o carattere selezionando un testo possiamo modificarlo quindi convertirlo tutto in maiuscolo, minuscolo, invertire le maiuscole cercare una determinata parola su un motore di ricerca o su un altro sito web da inserisci inoltre possiamo inserire rapidamente la data odierna solamente il giorno, solo il mese, l'anno, l'orario, solo l'ora, minuti e secondi alcuni simboli e alcuni simboli di valute abbiamo poi la possibilità ovviamente di aprire un documento o di importarlo nel caso in cui scegliamo importa il documento non verrà aperto come nuovo ma verrà aggiunto a quello già aperto quindi in questo modo possiamo unire due o più documenti dalle opzioni possiamo scegliere il font e le dimensioni in questo caso ho scelto 12 possiamo anche andare a zoomare in questo caso aumentiamo solamente lo zoom ma il font rimane uguale oppure come detto se vogliamo dalle opzioni andiamo proprio a cambiare il font inoltre possiamo regolare l'opacità della finestra quindi renderla semitrasparente in questo modo possiamo copiare eventuali testi che ci sono sullo sfondo quindi è più semplice utilizzarlo per copiare dei testi presenti in altri programmi può anche essere impostato per essere sempre in primo piano in questo modo sarà sempre sopra a tutti gli altri programmi quindi impostandolo in primo piano riducendo l'opacità potremmo averlo sempre in primo piano e vedere anche quello che abbiamo sotto un'ultima funzionalità che è ancora in fase di lavorazione è la possibilità di scrivere dei comandi e di andarli ad estendere quindi ad esempio vado a scrivere lorem ipsum tasto destro run command e mi va a scrivere il primo paragrafo di lorem ipsum stessa cosa per html vado a scrivere html start run command e mi inserisce il codice iniziale per creare una pagina in html è presente anche un codice per creare un foglio di stile in css che va a resettare le impostazioni quindi per evitare che alcune impostazioni possano essere sovrascritte il classico foglio di stile di reset al momento i comandi supportati non sono molti sono tutti presenti sul mio sito web ma in futuro ne aggiungerò altri aggiungerò anche la possibilità di gestirli e di crearne di personalizzati quindi ognuno potrà inserire i propri comandi come ho detto il programma è gratuito basterà andare su ecasoft.com ecapad e da qui è possibile scaricarlo sia in versione installabile sia in versione portatile quindi con un file zip con i file all'interno questo è tutto come sempre se avete dubbi, domande o suggerimenti o in questo caso visto che il programma è mio se avete anche proprio dei suggerimenti su delle funzionalità da aggiungere scrivetemelo nei commenti o anche via email in privato vi ringrazio per aver seguito questo video e ci vediamo al prossimo iscriviti al canale iscriviti al canale